A Villa Ricca i carabinieri della sezione di Qualiano hanno arrestato CI, 47enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. Siamo nel parcheggio di un centro commerciale di Giuliano a via Santa Maria Cubito. I militari stanno effettuando un servizio ad hoc contro lo spaccio di droga. All'interno di una panda in sosta c'è un uomo che parla al telefono. L'autista è particolarmente agitato e i carabinieri decidono di pedinarlo per osservare i suoi movimenti. La banda raggiunge il comune di Villa Ricca e percorre il corso Europa. La marcia procede regolare quando un ragazzo insiella uno scooter si è affianca all'auto seguita dai carabinieri. I due non si fermano e lo scambio è volante. Prima le banconote e poi la cessione di un involucro. Questione di pochi secondi e il centavo fugge via. I carabinieri fermano la banda ancora a bordo CI. Inizia la perquisizione e i militari trovano nulla ma quello che hanno appena visto racconta un'altra storia. La vicenda poteva concludersi con nulla di fatto ma i militari non si arrendono e la perquisizione si fa più accurata. Alla fine la scoperta, 17 dosi di cocaina nascosti in un cofanetto per le gomme da masticare. La piccola scatola metallica con tanto di calamita era nascosta nel bocchettone dell'aria condizionata nella plancia centrale sopra lo stereo. Il 47enne trovato in possesso anche della somma di 275 euro poi sequestrata è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale. Deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.